Italia apri pista a livello mondiale. L'approvazione del disegno di legge che rende la maternità surrogata un reato penale, anche se commesso all'estero, pone il nostro paese all'avanguardia dei diritti, in primis quelli dei bambini e delle donne. Le donne non sono un contenitore. La maternità è un evento particolare che include tanti sentimenti e anche una relazione molto profonda fra la madre e il figlio. La maternità, questo è lo spirito della legge, non può essere trattata come qualcosa che deve essere messo sul mercato, uno strumento per un fine diverso. La maternità è una relazione tra madre e figlio, tra persone. Le persone non si comprano e non si vendono, i bambini non si pagano, non si può togliere una madre a un figlio e non si può togliere un figlio a una madre. Per di contro le opposizioni parlano di bestiarità della destra e accusano il governo di aver voluto una legge strumentale per impedire alle coppie gay di avere figli. Io penso che questa sia davvero una battaglia di civiltà, una battaglia di diritti affermati, il diritto di una madre a non vedersi togliere il bambino, il diritto a un bambino ad avere una madre e un padre. Il problema è che qui si programma il fatto di togliere la madre al figlio.